Ma perché l'ultima è stata la canga? Ma che dice? Io sono in serio lutto e anche un po' rutto Moro invece non si è ancora ripreso da quella volta che è cazzo dal seggiolone mi fa Questa sera Lo chiamo a FIFA Per l'ultima volta Ah ecco qua Meno male che l'hai detto con questa flemma Dovrete godervelo Mi raccomando Ma guardiamo Sono anche le ultime volte Mi sono quasi annoiato Chiudo la sub con i suoni di FIFA Ma adesso ho una semplicissima domanda per voi Dove cazzo è finito Corne? Nico, aspetta allora La signorina Nicoletta che ha fatto la sub Davide che ha fatto la sub E Rodi che si è fatto il ride Moro non fare l'espito La situazione che parla Ma qui si Ciao Ma Corne ha detto Vado a prendere il telefono Che poi si Ciao bello Ciao Ciao Grazie Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Cosa? Sei veramente un uomo fessa Potrebbe essere Potrebbe Che è un complimentissimo Adesso sto mettendo il mouse Mamma mia morelle che palle Il pulsore sopra il pulsante Gioca Per avviare il software Adibito Per poter giocare al videogioco Grazie Grazie Fassino Grazie Ma che sfidarti tutti Ma Pierpollo Basta Da oggi Dopo oggi FIFA è finito L'avete già detto La notizia però Si incinta? No che quindi Non ci sarà più FIFA Ma da martedì prossimo Inizieremo il Pro Club di Madden Chi l'ha detto? Ma per cortesia Guarda se esiste lo provo Sei l'unica persona In Madden si usa la racchetta Che gioca a Madden Amici A parte che non dovete Dovete essere tristi Ma non Dovete essere tristi Ma non troppo Perché comunque Torna Poi tornerà Con FIFA 20 Facciamo questa pausa estiva In cui magari FIFA Durante l'estate Potrebbe tornare In un'altra forma Però bisogna Memorizzare i giocatori Perché bisogna ricrearli Perché non si possono importare Per forma intendevo Forma fallica Chiaramente Mi sembrava Io rifarei gli stessi giocatori No Io Io so che Luke Voleva cambiare il nome Luke Va beh Non è ok Ma magari L'assessore Tipo Altezza Oh ma non mi funziona Il pad Il pad Come funziona Altefequaccio Ma no Ma guarda che sei veramente un valubo A fortuna sto streamando io Sta spento il computer Jezar Ti è caduta la faccia Jezar È anche meno raise Secondo me Rilassiamoci un attimo Siamo qua per divertirci Insomma Non ho ancora iniziato la partita Ho spaccato tutto Mi sembrava questo tifoso medio Che gli viene fuori Ogni fare Dal medio Te lo faccio io Ma perché È una peccatura Moro Strano che tu non stia sbavigliando Ma fa caldo Capisco che è impossibile Ma dobbiamo ancora iniziare a giocare Aspetta Dammi 5 minuti Che mi addormento E poi Io non capisco Ripadisco sempre Perché Moro Non apre FIFA Prima Deve aprirlo sempre Quando avevi già iniziato Ma l'ho aperto Ma non funzionava il pad Sono stato mezz'ora a cliccare Poi Quello è l'altro disco Sarà l'ultima volta Nella mia vita Che verrò espulso Ma peraltro Questo è il primo Ultimo episodio Di FIFA Di quest'anno Ma bravissimo Non è detto Se FIFA 20 Ce l'oppe le balle Lo finiamo prima Eeeh Non è possibile Valla tu Buonasera 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 Tocca partita No? Bravo Ecco Lo prima ho sbattuto Il tallone Nella gamba roteante Della sedia E adesso sei Achille Quindi morto Mi fa un bruciore Teribile Io ho comprato Le mie caramelle Piccante Cosa? Sono caramelle Gommose Piccante La forma di peperoncino Tra l'altro Donna Ma in realtà Non è così tanto Piccante Si sente Però non è così Tu da calabrese Sentirai giusto Un frizzicorino Amici Io sono veramente Eccitato Sessualmente Ragazzi Per pollo Non sono mica La tua prostituta Ci sbatti contro il controller Adesso Mark No no Corvo Sarebbe troppo sexy La mia close Vedi Già scarseggiano Anche i giocatori Sono già in vacanza In preparazione Io In camera Mi c'erano 56 gradi Andiamo Berlino Berlino L'ultimo perineo Wow Vado sportivo Lancio il pallone Non faccio gol Ma adesso ci ritrovo Che tunnel Che tunnel Dai amici Eccoci Ma è un terreno ghiacciato Dei rumori Del 16 per caso Di tutto in realtà Di nuovo senza finestre No Le ho aperte Le ho aperte Perse 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 Ma mia Ma che Ma cos'è questo Campo Poi Che mi ha fatto 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 Paterno Ah Ahia Vi sono scontato Corro 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 È ferito È veramente una cadrega Di pepi Eh ma non dovevo neanche essere L'ho presa Sono forte Come l'ho presa Non lo so Che forza 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 Guarda sotto Bello Grazie Maurizio Come eri fuori gioco Come l'hai chiamata Maurizio Ho chiamata sette ore prima Ecco a me posso L'ho toccata Maurizio Settimo Cielo Ma non era Non era Godel Che testa pelata Godin Piedepernico Piedepernico Coperno Ce la puoi fare Moro Metti le gambine Allora Chi è Allora Vai Corna Sei tu Lorenno Anastasia Anastasia Guarda è veramente fantastica Ventiduesimo mese di tier 3 Guarda Se non ti facciamo la limonata Fettel Te pastiamo Eh moro Stavo andando Della distrazione Continua a spaziale Per tutto il campo Se non c'era il buco Non c'era il buco Non c'era il buco Non c'era il buco Me l'ho fermata ragazzi Sono veramente il più forte difensore Del centro campo Vai Non c'era i pezzi Questa fra Osile Vediamo se è grossa No Pianic Ma che meron Che non ho la testa No No Porca miseria Non dargli la sua terra Vieni amici ragazzi Moro Ma tornate da dove sei venuto In Messico Ah si Sì Io sono messicano Ah Qui sono i baffetti Li ho rubati E come Mercon E perchè sono a terra Eh si è caduto Vai Ma chi è questo Che gol Ma testa di cazzo Che gol petente Che fa Eddie Che fa Eddie Eddi gordo E poi vomita Eddi ciccione Intendi Ma se la Francesca Ma c'è Sanji Dall'ora Ciao Ma Beccati questo Marco Vado di qua Che carmine che sei Bravo 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 Allungamelo Raggomito Molamelo Bravissimo Fottimento Vai Luco Oh ma questi piedi Arrivano da bravo Tutto Tutti Mamma mia Francesco Protti Bravo Luco Francesco Totti In onore del vero Francesco Totti Che guarda la Roma Dirigenza Vergogna proprio Guarda veramente Eh Settimo cielo Buono buono Vai Corno Mi sento gasato Quest'oggi Per che cazzo Gasami Era per Corvo In teoria Non ho ancora toccato una palla Ma tu i di Adesso Ma tu i di Amici sono veramente Recuperatore di palle Il passatore per eccellenza Di palle Fantastico Oh che botta Che gli ha dato Grazie Stefano Grazie Stefano Grazie Stefano Fino a dopo domani Che passagione Set Stai Ma che corpo sei largo Na 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 Perché amore qui Eh ma io sono un po' qui Un po' lì Sono centrale Diciamo Bravo Luco Mi piaceva questo tocco C'è il tocco sulla fascia Perché sono un gesto Pezzo Pozziginori Devo essere io Ma Brunori Allora Sat Sasgo Mi chiamavano Ideostar Ideococin Scemo Ciao Cap Sei veramente L'uomo più Verro Ma Se Eh Lo vedo Liezar Mi ha visto L'avevo in mezzo Sontanissimo Mamma mia Poteva starci però Ozil Era un po' rischioso Come cross Ozil O dread Tanto la guarda Tiene una capriola Porvo Lo voglio un tuo gol È in chiusura di annata Adesso appena mi arriva una palla Te l'ho dito Mica con una vannaquata Giochiamolo sull'asse Roma-Madrid Bangkok Vai vai Aia Mi è caduta la sara Guarda te Platini arrestato Eh sì Sporco Mauro Ma 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 Bravo Luca Che Tessa di Cosa Che 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 Sono Buisa O L'ho preso Bravo Corna Bravo Corvo Lanciati Va Di mezzo Se non si leva dai coglioni Questo qua Lo paro E Era da passare Lì Eh sì Vai Peccato de gola Peccato de gola Ponzio era pelato Che incredibile notizia Vai Ponzio Ton ton Di gollo Mi fermano Eh non ti fate fermare Fargli vedere Ma Vi ho visto Non l'ho visto io Che orgia di sorgia cartoon Dai non facciamo finire Che non mi ammoniscono Eh Eliezer scusami ma Mi sembrava troppo prevedibile Di là Invece era meglio Se è stato il 16 Eh sì Non lo fare Oh malo Zamora ha molito Mi sa Ecco 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 Ma che hai visto Albano che ha cantato Il matrimonio di Nikita Sì È dovuto venire in Italia Perché non poteva stare Tutto le parti E arriva il cartone Ah mi ha Molestato Dai l'ho quasi preso Vai Luke Fagli vedere Difendi Fagli vedere la nostra muraglia cinese Però italiana Ok Il Ludo di Merlino Il Ludo di Merlino Trembano Sono io Il famosissimo Tremone Dove vai Il famoso dilatatore Aspetta Ok bravo Ma mi tengo Rilassiamoci però Facciamo azioni più calcolate Ma non cazzare questi Io mi faccio espulere Eh Espulere Espulere Ma quello è il mio piedino No invece è il suo Frizz Luke ripartiamo In maniera Ma che cazzo Non era per quello Era per l'altro difensore Il piede Adesso ti cancello Dai miei contatti Ok dai Bellistica Grazie anche a Kashi Grazie anche a Kashi Grazie anche a Kashi Ragazzi Grazie bellissimi Dopo leggiamo i messaggi Mi sono anche allungato Grazie Per lì delle sub Somaro Perché a me Dalla parte del popo Su questa rimessa A metri per correre sulla Rodolfo Babà Capel Solito Amici dai Abbiamo avuto un veramente Un fracco di occasioni Siamo per farti spulto Sì ragioniamo Buonasera amici Anche se non più presente Come prima Per impegnare il lavoro Appena ho tempo libero Vi seguo un pronto Comitieri Grazie a Kashi Andiamo a Berlino Beppe Andiamo a Berlino Termocir 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 2 Grazie Beilistica A te per il tuo Fantastico E' come se leggo le moto Che sorride Parentesi Per la correzione Sì Vabbè Parentesi aperto Lupi Cosa Sto recuperando anche io Bravo Bravo Così ti voglio Come lupo Alberto Oh cia 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 No è possibile Perché l'hai fatta filtrate Ah i miei piedi sono abbastanza corti Wow Che scubo Io ho veramente caldo Voglio l'acqua con i semi di finocchio E' Timoce E' quello Che buoni sono i semi di finocchio Adesso li ricompro io Mamma mia Non li pego da Ma a parte che si Sì sì Sono buoni Ma a parte che sono buoni E' zucchero praticamente però Bianchi No Sto passando Non mi stai arrivando Ma se sono umbriaco Sto facendo davanti e indietro Cosa fa? Cosa fa? Fa i giochetti del peto? Lo assassino io E vieni qua Oh sta ero manfro Credo sia una delle prime live di FIFA Quelle lì La parata Che fucilata Era tipo la seconda Quale? Sì Non è fuorigioco Scusate No C'erano giuratori sul palo Il nome della live di FIFA dove Marco diede dell'omosessore Era veramente una delle prime Cosa fa? Bellissimo Oh oh Fazzita Adesso che gliela abbiamo detto Va a recuperare la clip E poi gliela fa vedere A salvatore A ranzulla Che buoni sono i finocchio No I semi di finocchio Sono veramente buoni i semi di finocchio Anche qui è già bravissimo Ma non è vero Non è andata a me la palla Ma perché non è andata mai a me In tutta la creazione Ma eravate sovrapposti in sette Ma no ero davanti prima Possibile? Corn Corn Non è che chiedevo il fuorigioco Ho chiesto l'ombelico del mod Comunque se non stai tranquillo Ti do un pugno negli occhi Guarda C'è il tocco sulla fascia La spazza via Eeeh E' qua E' qua E' qua Oh ciao 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 Taglielo Ma che è successo Le sue gambe flutte Fluttuano Fluttuano Ah Ah che strano Cosa sono i semi di finocchio? Ma veramente non li conoscete amici? I finocchio sono buonissimi Sono buonissimi Io da piccolino e mia me la facevano sempre nel biberaum Aia Nooo Si nel biberaum mi facevano l'acqua qui sempre di finocchio Bola? Bola? Passale Oh è spulso L'abbiamo arrivato subito eh Eh si Ambecile coglione di merda Che valire Retino Temo bagliaccio Occhio Occhio Luke Ci sta ci sta Vai in mezzo No Vai Corvo Nooo Ce n'è ancora ce n'è ancora Bravo Moro Ma Ah Era per pareggiare sono onesto Ma l'onestà non ha pagato Vai Moro Eh scusa Corvo Oh è giusto è giusto Aia Marco Ehm 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 Eh ma credo non se l'aspettassero neanche Luke No infatti perché tecnicamente era per me solo perché boh Ehm Abbattito il gioco Ostia Era inaspettata questa eh Ehm 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 Siamo al rizzone Si presi nel difensore Contretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea Vai Ghezzi E' una baffata Ma che fai Cazzo Bello 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 Marco Ponte Ma perché così tanto? Ehm Io ero tutto solo Non ho neanche caricato Ma Marco Gli ho spaccato il naso ragazzi Gli ho spaccato il naso Gli ho spaccato il naso Gli ho spaccato il naso Spazio per l'interversione Carola No devi crossare Devi tirarla sopra a me un'altra volta L'ho presa Si? Si Moro Che miseria Il mio lavoro sempre perduto Sempre E' il mio lavoro E' il mio povero lavoro La mia schiena La mia fatica Ma basta Quello del mio lavoro Sanno tutti qua Tutti Vai Adesso mi organizzo Un attimo che prendo le ferie Ok Vai Quasimodo Frezza No Non dovevi farla filtrante lì Si passero solo meno gambe Dovevi fare il passaggio normale Il normale la prendevano ancora prima Eh può darsi Ma lì doveva andare avanti Era dura Chiudete le valigie amici Grazie le segne Grazie le segne Grazie Eh la madonna Beh Perché Eh scusami Ne aveva 18 davanti L'ho cercato di dare subito Oh tanto Ah mi hanno ribaltato a me No eh Ma noi stiamo perdendo Non ce la meritiamo mai ragazzi Oh si Ma siamo pazzi Hey hey Uno dei due Dario Ha fregato entrambi Incredibile Oh Dombecile Vado in mezzo Non passeranno Non morirò in silenzio Eh Guarda che abbiamo dominato Adesso loro Tirano La palla Tirano Aspetta carino Corvo Eh ho già risposto di stare la Juve Non ne penso Ottimo il tocco Ma dai Ci stava eh Eh si ma perchè Se la passava a me La prendeva a loro Probabilmente Cross verso il centro dell'area Vento Vado nelle banche L'ultima volta Ci sono Tira Tira sul corno Ma quanti erano Ma quanti erano No è che eh L'asse della prestazione No era la L'avevo premuto prima E quindi stavo aspettando Era l'asse della prestazione Ci sono Ma porca miseria Pisella mi mazza Sono qua Rodolfo più Bertà Anche Fiori Potrebbe crossare Ford era perfetta eh Tomoro Non è possibile E perché non me l'ha tarata Nooo Che falla Non è possibile Comunque No Quello non è possibile La passa a quello Quello la passa a quello Com'è Marco Madia Marco Madia Arriva Perché sono qui Vabbè meglio così Corvo No sono corrigioso Lascia lascia Bravissimo Nooo Testuali parole di cazzo Aiai Aiai Sì Vai Luke Provo ad arrivare anche io Ma sono veramente lontano Eccomi 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 Recuperatore di palle per eccellenza Ancora Perché siete così tanti Ehi ehi Non volevo prenderla Ma chi la voleva fare Non volevo farla Aaaaaaah Ma Ma Strano eh Era l'espulsione Era durissimo lui Arrivo Anfulla Ehm Era veramente duro lui Grazie Moro Non tu Marco Tu fai cagare Pensavo duro se a mio fallo Cody moons atel Mi tengono, mi tengono, mi tengono Vai Corvo, arrugalo Vai Lillani Vai ancora, insisti Pancaro, prendilo Pancaro Pancaro, peccato Dai, non la meritavamo Ma è finita la partita E dov'è la mia espulsione? La mia espulsione La mia espulsione Dai ragazzi, questa la meritavamo Ma questo è veramente un gioco per me Dovremmo vincere ovviamente per salvarci Vabbè tanto, anche se non ci diamo Abbiamo preso traverso, ma certo Per finire con onore, Giazzar Dici Può ricordarvi che eravamo in divisione 4 Questa è stata l'ultima prima partita dell'anno Cazzo, Moro Anzi, la prima ultima partita È stata l'ultima prima ultima partita Ah, ecco La preginta Arbitro, si è dimenticato la mia espulsione Scusi lei Scusi Mi scrocchio il collo Ah, che dolore testa E' scemo Vorrei che te lo spezzi poi È vero Amici, oggi ho pulito tutta la mia stanza È stato faticosissimo Ma se c'è la stanza di due metri per uno Eh ma c'ho duecento figure, duecento pop e duecento manga da togliere e di tre Una per uno di valore, Marco Vabbè 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 Non ho capito perché dobbiamo rientrare tutti perché non trovo la partita Che è colpa mia Perché è un bel gioco Ma dall'anno prossimo sarà uguale È sempre stato così Non vi dico del mondo, ora arrivano Aspettali eh Dai dai che è stato un po' sfortunato ma vedrai che arrivano A parte che Francesco Totti ormai veramente incontenibile, incontinente Vabbè anche incontinente, esatto Tanto amici ho sbagliato, ho cliccato per sbaglio ma già che ci sono Mi metto anche questi due link Guarda che poi ti tabba FIFA eh Ma che dolore Non lo so magari però sai che è un gioco del cacchio Che gol, vado via triste però L'ho presa proprio per spammarvi link su FIFA Bravo Pubblicità pornografiche FIFA 20 lo potete prenotare al prezzo di 49 euro Sperando che sia ancora quello il prezzo Mi l'ho controllato Mi controllate se è ancora quello il prezzo Gente in chat Se è ancora quello il prezzo mi dovete scrivere tutti quanti Sì Ma perché sei stronzo moro? Eh perché voglio usare ne è certo Vedi tonno ha sbagliato Infatti non è quello il prezzo, è 49,98 Allora dovete scrivermi no Ci sono amici? Corvo sono veramente nudo per te Ma dai Ma dai Pensavo È di un capellino bianco ma Sono in chat Siete veramente Mi fate sentire il calore No per favore che c'è il calore Oh ma senti questi rompicoglioni che Vogliono debellarmi l'estate Certo Meno male che il campo è largo Non ho caricato tanto in realtà Pensavo di tirare un peto in bocca al bollino De Marri Ho detto il Thermobest poi ci finisco io con le bozze Totti Facciamo un tiro Totti che è imprevedibile Grazie mille per la samba per l'ottavo mese consecutivo Grazie mille Grazie Bravo Moro metti il piedino Io ho fatto quadrato Asciugamani Perano Eh? Perangente Perano dal 1956 Ma che fai Marco Madia? Che pallina Ho provato a chiudere lo specchio della porta Ma lui ha fatto col piedino Ma Ramonza tu sai caccare Ma veramente guarda Io dovrei difenderti in questo caso Ma farò un'eccezione Ma che era Quasi autogol No nessuno ci arrivava Ma io forse ci arrivavo in realtà Il passaggio era così forte che è partito anche una macchina Ma che sbigolamento che gli ha fatto Nuova parola dell'estate Sbigolamento Jezar sono ancora Eh non l'avevo visto male No sono Sonny Suarez Solci Sonny Eccomi qua Ma che uno Porco Pepper Moro era Nachimino Ero fuori Giorgio Sì ero fuori Giorgio Beh io in realtà non era neanche per te L'ho sparata via e basta Per evitare Pagliativo Ma che fai cos'era quel trio Non lo so ma ha spostato la palla Ci siamo Vai Moro Spiggi di forza a modenza Oh un becci PORCA OH PIRists Ho tirato subito Ero Ma quante volte la stiamo recuperando e riperdendo Oh cio 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 Rodolfo Ero Bebe È fuori giusto eh Arbitro No non è fuori gioco Esci col penne Bravi Quante persone Per persone Non è morte ma che è ok buono no ma si è attivato ok google perché hai detto ok buono veramente benissimo siamo tutti due di no grazie a un lupen grazie a un lupen ci arriviamo a un romo rodolfo pepe sono qui corno apporgiavo siii mi ha anticipato male aia rigore rigore rigone liu corno ho passato agli uc ma non avrà troppo aia aia ma ho spaccato le gambe no la besta gente c'era lì ci sono ci sono sono un imperdo raro con meglio che di questo e fa tranquillo non si è accorto lì era girato come il wrestling vado in mezzo ma che era mi ha fatto un gioco di magambe eh non me l'aspettavo fammi anch'io me l'aspettavo tira e togli ma quella era mia comunque perché l'aspettavo non era girato ma abbiamo l'arbitro grazie pasta per l'arbitro 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 io credo sia un uomo con i capelli non è vero ma non ho mai visto un arbitro donne in fifa non ci aveva mai fatto caso magari no 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 ma li conosco tutti a memoria i preset mi sembra strano adesso me li descrivi tutti allora no visto che li conosci no 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 non li scrivi non li scrivi no no che bello corvo adesso entro e gli faccio vedere come mi si chiama mio zio ma io mi continuo a fermare questo maledetto oh ma che fa quello eh lo facciamo va bene che pitto pitta il pane degli dei no corn sono io l'ho passata troppo corta devo caricarlo devo rifiattare un po' perché ho fatto tutto il campo due volte avanti e indietro metallurgia semile ma qua segnano ma questo è un coglione l'ho capito l'ho passata ha perso l'occasione di fare un gol fatto proprio e si è proprio mio zio quello lì ma dove vai la miglia nonno felice nonno felice ma consiglio che l'ha presa lui oh ma come è possibile metallurgia semile tra mezzato adesso una cosa chiaramente della terzietà la metallurgia è voglia certo qualcuno che sta fumando una sigaretta qua sotto l'ho avendo delle ventate tutto il piccino ma sotto il balcone il balcone del piccino ho sbagliato a dire scusami ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro una peluria anale ma detto vanghe dai me la sono guadagnata questa dai vedete che è una donna sembra sembra una donna anche esile a parte che non è mai quella che si vede dall'alto comunque ma lo è comunque sì sì no è una signorina non lo sapevo non l'ho mai vista io ma dove ci sto andando toti ok che fa ok a distanze notevole vedremo se proverrà lo stesso la conclusione in porta bene ma io ci credevo volevo l'ultimo gol del ma la testa di cacca non l'ho mai visto comunque l'arbitro donna negli ometti anche perché perché dovrebbe essere un uomo l'arbitro scusi ma venga piccato ma guarda che c'è stato anche le guarda linea donne nei campionati maschili comunque e che non me la ricordavo su fifa semplicemente non mi ricordavo ma che fastidio con la poste devo farlo leggermente più a destra si ma che bravissimo sono qua a poes na poes questa è mia eh mettila asciugare e giustamente la bagni porca miseria questi vi fanno incazzare bonjour bonjour di qua li sto innervosendo pronto marco bro ip non temporeggia senza far tutta bella chi che figura di merda rilassa ti rilassa ma guarda mi sono rilassato tranquilli ragazzi ma guarda ma io ho veramente incazzato marco in Bundesliga si sono arbitro femmina e fa anche la guardia linea beh ma si vede che contemporaneamente no ma non credo che cioè allora io ho visto i guarda linea donna ma non mi ricordo in Italia è un campionato italiano non mi ricordo se era in Italia ma mi ricordo di averlo già visto ci sono in Italia arbitro no però no arbitri non inseriamo no non inseriamo nelle altre serie si ce n'è e il quarto di bue ah 2-1 mi hai presi eh mia califa ah corn ecco bravo questo cambio di fuego beh meno peppe non ho morto per fare tocco tanto eh risolve lui ah eh che è ver parisi che ho visto perchè moro adesso l'ho ammazzo scusate le sarete bravi voi bravo corno tutti li sto sbagliando e per fortuna che non c'è Spry che ci dice che siamo bravissimi altrimenti sai che che macello ci sarebbe arrivato è quello di prima sta bene quel coglione truffaldino è un pisello stavo tirando a fare anche indietro oh ma ti ha tirato un calcio nei coglioni io adesso gli restituisco i maroni di naso peppe nudo adesso sono incazzato eh ehi si è morto quello lì eh adesso come è trivellato non vedrò più una palla eh non mi piacciono è morto ragazzi prego passaggio particolare e niente poi prosegui è bene è Eusebio vai Eusebio bello gioco di ponte la lavagna mettila asciugare occhio al tiro dalla bandierina che sfortuna dove è Ezio quando serve Marte dove è Ezio che mai tra l'altro ho visto anche che è andato bene il video sono contento cazzo mamma mia non c'è stato nessun tipo di palla lì sei così contento che hai ucciso una persona amoro si ho detto che sono incazzato ma per almeno sono un po' contento per il video ma per almeno ah no ok ma basta ho detto tonal come fatti vario che i google ma di nuovo mi sdrendo ma l'hai detto scemo la volevo prendere al volo ma non rabbiare modric è una zanzara nuda purtroppo si hanno questo brutto vizio guarda ma perché non abbiamo nessuna difesa a questi vizi sarò un pochino spammone ma cavallo grazie per la dai zanzare festiche calvallo grazie calvallo grazie per la sua tra l'altro calvallo mi ha detto che ho comprato fifa 20 da questo link ma anche spider man e questa cassa bluetooth intanto moro era fermo però si si ha proprio a farsi l'allegri cazzisola ma che faccio tanto che buona era le morositas ah tra l'altro oggi l'ho provata con la cassa bluetooth ci ho guardato spider man homecoming su netflix ma dove sta andando e pompa di brutto zio prima pompa e poi magno un sono pulito e lì ucido marcarolli marcarolli zaccardo barone la lasagna mettila asciugare questa non può nanch'io suarez ma com'è che questi fanno tutti questi passaggi noi al secondo l'abbiamo persa perché siamo dei disgraziati pezzenti siamo ideal standard te l'ho detto che dì che porti dei cesti suarez tu di che marca ci dai spostiginori ma non lo so eccomi l'ho ripresa eccomi perché gli ho fatti nuovi e basta io ho ammazzato l'hook ci penso io a difendere allora dove vai? bravo che breakdance eccomi ma non è possibile sono trasparente ma che faccio lì non era per me l'oliver l'ascolano l'oliver l'ascolata l'oliver no no oh dio era tantissimo non è però ah abebisazze dai questo era goal abebisazze era era mi ha preso adesso lo prendo io vai barrio ponti vai luke sono nudo vai con luke moro buonanotte non posso passarla in alto a te che poi la perdiamo subito è meglio avvicinarci con la eduta cautela a debisazze eccomi bisazza no bisazza in sicilia no fuori gioco non è vero baffa è il tipo di prender ori devi segnalare la posizione e'da neo goal prot, prot, prot titiri a debisazze ah ah adebisazze uuuuh mi spedisco corn mi ha estupito corn eeeh eh e dai l'ho fatto anche qua i piedi, buttiamole via erano i 6 quei piedi i loro, dicevo come dovute manovre adattive ma che tiro bruttissimo ciao Pier in difesa il mitico Rize vado tattica di pane ammollica, dici ora si l'allenatore, no? no non ero un allenatore mollica magari c'è stato un allenatore che si chiama mollica non credo sia famoso qui forse c'è bisogno di più spazi per giocare mi servirebbe una pratteria in più allora facciamo di liberare uno spazio vai corn tira ci sono ci sono oh testa di cazzo eri già ammollito ma com'è giallo pepe ma com'è giallo ma questa qui che sta a fare l'arbitro eh ma com'è giallo ma guardate ma perchè i loro portieri sono fortissimi e i nostri fanno pietase ma guardate ho perso la cittadinanza con quel fallo e dai ma adesso che cazzo ce ne faccio io vieni qua fabri vieni qua non mi fa arrabbiare arriva 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 oppa la la guarda come ti prendo eh 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 dai il pistolino eh eh vallaggia a te eh ahahah ha 88esimo ragazzi abbiamo 2 minuti più Raikul però più Raikul vai 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 è ultra offensiva fai qua Luca non mi cadono le palle cartellino bollo bravo no lo puoi lo puoi sono da solo non potevo come facevo ma che fa ma era terribile ma non è vero come non è vero è passato in mezzo a tre persone l'ora per questa poteva finire in una maniera tenace ma purtroppo abbiamo cagato 2 a 1 anche questa comunque nonostante la partita però questa era l'ultima perdizione ma no ma siamo rete dei cessi siamo rete dei cessi retro ma noi vi rendete conto che eravamo in divisione 3 una volta allenatore del racco 86 calcio femminile si chiamava davide mollica non avevo detto beh non credo sia una persona che non si conosca al di fuori dei loro pareti sì sì a me bisazza a me bisazza che belli i dodici piedi dei ninja c'ho la maglietta indosso io sono pezzato e ho la pelle con l'alone di sudore io sto di un fresco invece sto bene in realtà sono in pantaloncina e canottiera io sono in mutande con la canottiera finissima ho le mutande rotolate su tipo perizoma che strizzate dal caldo a parte che il perizoma ha rotolato su come scusa tipo perizoma ha rotolato su è l'ultima partita dell'anno eh è l'ultima ultima partita guarda guarda una giusta è fasta vediamo di farlo a balle dai una stagione storta ovviamente può capitare ah ma è la prima partita della settima divisione sì è l'ultima partita della settima divisione ah 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 inculamento una sola manichina ma Moro sei nel mio stesso livello di altezza del campo non lo avresti capito che facciamo Marco e non essere lì va bene se no poi devo andare avanti io e mi distanto oh ma questi sono delle ballerine o che cosa eh a parte che si mimetizzano col terreno un po' sono qui corno ma perché settimo c'è no no era una mamma per amibo una mamma per amibo e li ferma ma qualcuno ci deve svegliare il mio professore mantovani ma io sto ballando con lui oh e prova ci attira a questa balla sì ma è stato nel capocollo complimenti complimenti li rivendi li rivendi li rivendi ma che cazzo svegli ma davanti sono nere queste maglie che tiro della vista io non volevo mettervi paura ma in divisione 7 c'è peggiorato anche il portiere beh ma guarda che capelli che ha però non abbiamo mai... quello si è un bellissimo kelly tira l'albao sopra bravo meliezar fammi vedere chi è messi oh ma non fanno passare corvo gli diciamo qualcosa oh bravo bravo ci stava ci sta mia ingolante forse dovevo rientrare ah ma ci stava in realtà che passettini bollo alla diarrea che curiosità dai la ricetta poi bruttalo eh bravo bravo calcio d'azimo moro vai a marcare quello di lo prendo io neigolan nano dove vai? aspetta serio vabbè grazie ma è velocissimo neigolan nano nano golan popo con il pollo ehi arca miseria madonna mia che mia calipa il capitano è stato inzalito che disgusto sono finalmente possibilitato alle danze guarda oh 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 guarda col piedino in dieci mesi di gioco non hanno mai sistemato la la cazzo di riga mai vada in ben in bolla? vada in mona vai limonaventura bravo taglia la taglia la taglia la taglia la taglia la taglia la marco pizza crobat eh? calcio nei piedi ma nooo porca mi come pensi di poter segnare da lì? scusa bravo luke defretta mamma bella eh a me freghi costi finte di velocità marchisio? ma che fa marchisio? pecipino non ha mai fatto questi dream di marchisio ma stai fermo deficiente passami la pallone a te ah beh 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 gli azar mi faccio guarda quanti ne ho intorno sono sette te bubu mi faccio le donne complimenti e vai allora vai ma che lento sono stancovitz madonne che tiro ma che brutto il portero nostro ma poi avere i guanti io lo sdraio questo dov'è? dov'è sei andato? nanetto è andato alla banderia ehi no 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 una cioccolata del sedere aaaaa tieni corvo grazie corvo me 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 mi mo ba ma dai che ha messo il piedino ballanzasca ballanzasca è possibile ricevere una spena un giocatore di calcio beh c'è stato il nipote di Gheddafi è finita la partita è fuori gioco 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 ma questa è la parata però perchè sapeva che non valeva ma baia baia occhio baia baia morena solo se c'è luna piena ruttami tutto ruttami tutto il pallone è uscito sarà rimessa eh c'è un po' da ridire il mio tito qua fuori no no eh eh aspettatelo aspettatelo astradamus ma come potete usare ma gli sono queste palle che si infilano e comunque il portiere in divisione 7 per adesso è meglio dell'altro anche se da adesso in poi prende 10 gol ha fatto più parate dell'Ali che è successo? è giusto è giusto è giusto è giusto eh attaccante colpito a borda sicura prodigioso in riflesso amici io vi sto venuto in chat solo per perchè volete ma che fa? che succede? ma non succederà purtroppo non oggi ma come cammina Toti? però potete comprare fifa venti eh sapevo io andava lì da quel link mia cioccio eh? l'ho ribaltato mi accento tiz ma ma perchè ti riammere perchè tanto non potevo passarlo ma si ero io lì no stavo sbagliato tutti i tasti cosa passavano di Renzo io lo sapevo voi non lo sapevate ah 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 non volevo essere lì mi accento forno quel movimento di lato non dovevi farlo foro foro l'abbia visto incredibile no perchè non l'ho presa l'ho sdrumato uno ok si ti inserga l'ho sdrumato me no no l'ho sdrumato uno dei loro io ho sentito il mio pad vibrare i men di calli perchè l'on dà d'urto purtroppo è schifo questo qui l'ho sdrumato quest'ora un miserio come la nigeria che c'entra un miserio ho capito come la nigeria ma guarda te un po' terno duniano moro c'era un abbuccio si vede si si sulla neve più pelo per tutti morelli ci ho creduto quasi ah mi ha visto l'ora eh si mamma mia certo che tutti i tiri che abbiamo fatti li abbiamo fatti da metà campo ah non capisco a cosa vi riferite ragazzi adesso lo sparo eh no eh io l'ho ucciso uno retta incredibile di Simone uno grazie grazie Simone grazie il tuo sostegno porca miseria hai preso la palla non è vero grazie che credi in noi eh non è la palla e con il tuo soldo ci sostieni i semi per mantenerci sempre ad un livello accettabile accettabile grazie amen da non fare schifo durante la società proprio durante ringraziamo tutti Simone Simone delle pene ragazzi ci vuole un po' di tifo fammi un applauso con i piedi ma Lenk questa qui credo faccia il caso ti uo ahahahah ma quanto costa Moro che l'hai spammata 16 volte di qua la perde 84 euro ma è un macello di soldi ma è una cassa che pompa un botto eh è vero quando uno ha la soluzione a portato di dito guarda vedi tu vedi mi stanno sul cazzo questi marco jennifer lorda no Corvo vai il centro eh volevo fare movimenti peccato e poi è successo questo lo so che non se l'aspettava Luke lo volevo solo trarre in inganno oh se ne alta Elvira ha un porcello come bravo sontuoso come è passato perchè sto andando io mi ristofottendo in posizione tranquilli l'apertugio ma com'è che posizione era quella senza possibilità baci perugina i baci nel scusa bestia ho sempre quello che prende le botte espulsione è da dietro mi sa nooo ma niente ultimo gol per Fabrizio l'ho fatto prima dai conno è vero l'ha fatto prima uno dai la sua prima e ultima espulsione la maestra ma pensa credo che sia la mia seconda espulsione in FIFA pensa la sua seconda e ultima prima espulsione nooo torforosso non c'è altro finiamo il campionato intercontinentale con questa maglietta color cacca la maglia di Paperino nooo non lo farò succedere e Marco non ha neanche andato in scivolata proprio non è neanche andato in roleplay Marco no ma che è rifo questo ma che uomo vergognosamente terribile scusate anche quello alla sua destra non è male che la sua sinistra non è male guarda è Marchisio non è vero è vero ora tocca giocare il 9 come RESTAY 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 momentaneamente assente sono andato in bagno come si grazie a Natlash e resta stai fermo grazie per il supporto che ci date ogni giorno con il però devo dire che è abbastanza fastidiosa la scritta sopra hai ricevuto un cartellino rosso e sei stato espulso dalla partita io ho capito cioè eh so cosa si prova orzo te l'ho preso vai di rimedalio di pene che giocatore che giocatore orzo 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 ci siamo eh sono veramente il dispensatore di palle io e di recuperatore anche eh bravo bravo la misera eh mia palla schizza via la porto la porto corvo adesso che devo dire corvo la volevo passare dietro la foca ma va fa un culo te e la foca guarda a me neanche piace la foca no 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 la foca ostia che bravo che pulizia non ci aspettate eh mi sono allontanato più ho spostato tutte le cloche eh ma velocemente poi eh pari ferro mamma mia vieni qua sono veramente pirlo oggi eh vieni qua sono veramente pirlo oggi eh mi stava limonando io ma che giocabilità il mio pelvico ick proprio ho messo il frango siamo veramente favolosi eh wow mario biondi simpatizzante dell'atlas si va bene dinamo eh va bene fermalo Luke porta e niente non esiste tico flic ancora patata meccanica grazie patata cacchio veramente tico flic andiamo berlino 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 dove vanno parcheggiani oh cameo andate avanti ma dove a marco a marco mi ha preso la palla sto vecchio era di fianco a te no ancora che bravo ho visto lo sprint ho visto che ci credevo abramovic marina nooo vatti i ragazzi tuoi per favore no mi è caduto il pet ma sei scemo ma non stai neanche giocando come fai? infatti ci hanno appoggiato sulla gamba così è buona eh buona che buona che buona che buona che buona non ho più i piedi ragazzi mi fermo qua io dopo buona fantastico donna mia sei corrupto dai mi stavi per ciulare un gol quasi eh ero un rediretore ero veramente assofettario assoverato sono in questo momento dai andiamo madonna ehi ehi rubami l'anima ho fingetegli le pene eh eh fingetegli le pene dico ah ma che cazzate guarda se usciva quella spingi la justa su Luke con la justa con la justa con la justa mi si installa eccolo fottimi noh non mi fa passare non mi fa passare tanto questi lo so io come va a finire eh potrei saperlo anche io eh una preunta o regolarità eccomi una preunta vai buttala 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 su gutanax eccomi eccomi rosa terra bella vai chi qualcuno che cazzo non è saltato è la mia la palla in teoria eccomi marco vai riprendi questa palla te lo blocco eh mamma mia quanto bello uscita Francesco Totti fantastico avviatore ma che la live di calcio il la prendo io la potremmo fare perchè c'è una partita breve che dici che sono io no tu non vuoi ottima lettura edificazione che ha capito tutto la prendo sempre dai bestia miseria no siamo scoperti occhio arrivo non voglio coprirmi fa freddo uoh burti bussoli uoh era gol tantissimo secondo me era gol tantissimo bravo luco il mio buco è sdillabrato amici ma che schifo no la presa non facciamo le cazzate portiere migliore in divisione 7 comunque per adesso oh e ho capito e fai qualche cosa non dobbiamo più a lanciarla via il perone la tibione il perin madonna perin questa era molto una parata per i fotografi si vai palla verso i 6 in i metri per ora mi vede le tette prego adesso te le mostro da un attimo andiamo su tranquillo bearcamp vieni sbearcamp vado le distanze vado le distanze ma non è possibile adesso sempre loro facendo questa palla niente fate falli chissene andiamo l'ultima partita deve essere la nostra dai butteriamoci corne vado in mezzo passa corne è fuori gioco è fuori gioco di 7 anni testa di caro un velo per un velo per un velo per una treccia almeno ma che testa di cazzo fate falli falciatili adesso gli faccio vedere mio nonno va bene siiii ce l'ha fatta al 92esimo siiii l'ultima espulsione non si è vista nemmeno però siiii amici io siiii amici fino a farmi compagnia mi sentivo solo l'ultima partita vinta siiii amici è la partita perfetta finì adesso amici sono le 21 però dobbiamo fare una cosa usciamo di qua amici che bello usciamo di qua devo farvi vedere una cosa amici mamma mia grande miezza rotto ho fatto il best grazie amici adesso prima di andare da gatto vi faccio vedere le classifiche del club non è vero ma non è questo eh vabbè ma lì sono anche non sono come siano della live no non sono solo della live amici ma che emozione sono veramente emozionato amici gli ezzar con i suoi 31 gol aaaaaaah beh così l'hanno congiunto solo i live moro con i suoi 55 gol aaaaaaah mamma mia poi c'è vale con 92 perchè anche lui giocava in attacco luco con 68 ma credo che conti anche tutti gli altri giocatori che ha usato ma comunque 68 con il 94 assist il nostro portatore della squadra vettor non ha giocato mai purtroppo karim con tre presenze quest'anno pensa un po' io con 93 gol francesco todi come il mio anno di nascita tra l'altro davide che purtroppo ha più espulsioni che qualsiasi guardate il cartellino che c'entrano corvo ha fatto 52 gol 24 assist però in 137 presenti quindi quindi esprit ha fatto 19 presenze e un'espulsione l'unica cosa che ci ha segnata ma quanto ha fatto 19 partite ma non lo so non lo so corna ha fatto vabbè corna ha un botto di gol perché ha giocato anche ha giocato anche da solo ma comunque ne ha fatti un botto a prescindere Ale ne ha fatti un sacco anche lui la nostra punta alta e poi un disgraziato un disgraziato terribile io farei rivedere le espulsioni di Moro eccole qua e quante sono scuse 47 Moro c'è gente che ha fatto meno gol dei tuoi cartellini rocchi e quindi questo è il riassunto il riassunto della nostra squadra di quest'anno grazie per averci seguito alla prossimo FIFA con calore non troppo che fa caldo tantissimo al prossimo FIFA con FIFA stritta quanto pare anche non solo speriamo di rivedere corne e corvo anche in qualche altra live nonostante non ci sia FIFA vedremo di organizzare qualcosina e grazie a tutti noi vi mandiamo da catto ci sono lì anche io Ankamo che facciamo i voliziotti e ci vediamo domani mattina a domani mattina belli buonanotte ciao grazie per averci seguito The Champions pi 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 pi